Flaminia maledetta sul fronte degli incidenti stradali nella giornata di domenica. Due episodi a distanza di breve tempo e di distanza, quattro feriti, quattro le auto coinvolte e conseguenti rallentamenti al traffico, questo il bilancio della giornata e proprio nei pressi di quel tratto di strada, oggetto del servizio realizzato dalla nostra troupe dove i residenti lamentavano una pericolosità della strada proprio riguardo al traffico con velocità elevata. Il primo incidente si è verificato nel pomeriggio attorno alle 16.30, un tamponamento tra due automezzi con il ricovero al pronto soccorso di uno dei due conducenti per accertamenti ed esami. Ben diverso e con risvolti particolarmente accesi il secondo avvenuto intorno alle 22 quando una Fiat Punto che procedeva in direzione Maremonte condotta da un senegalese di 40 anni per ragioni ancora al vaglio delle forze di polizia ha sbandato vistosamente e ha invaso la corsia opposta impattando violentemente contro tre automobili che procedevano in direzione opposta che nulla hanno potuto fare per evitare l'impatto con l'auto impazzita. La Punto fuori controllo poi si è schiantata contro un muretto di un'abitazione a bordo della carreggiata opposta. Degli occupanti dei tre veicoli coinvolti sono rimasti feriti il conducente della prima auto una panda un uomo di 75 anni e le due passeggeri delle auto che seguivano mentre il senegalese alla guida della Punto è rimasto praticamente illeso. Dopo i primi soccorsi che hanno assistito i feriti e dopo essersi ripresi dallo shock uno dei conducenti delle altre auto resosi conto dello scampato pericolo ha incominciato a inveire e a rivolgersi con atteggiamento minaccioso verso il senegalese che ha innescato la carambola e poco ci è mancato che non scoppiasse una rissa ma le forze dell'ordine presenti per i rilievi hanno raffreddato subito gli animi. Notevoli le ripercussioni però in serata alla circolazione stradale che ha subito forti rallentamenti a causa della necessità di chiudere al traffico il tratto di strada per le operazioni necessarie alla rimozione dei veicoli e la pulizia dei moltissimi detriti delle auto.